bene un saluto a tutti oggi facciamo una brevissima conoscenza con il nokia n9 un telefono ufficialmente non importato in italia ma che non è impossibile reperire anche qui da noi io in questo caso ringrazio la stock house di milano corso sempione che ce l'ho messo a disposizione per questa breve prova vediamo un attimo il telefono è un telefono di fatto che il fratello gemello del lumia 800 in vendita da da qualche periodo nei negozi la differenza fondamentale naturalmente nel sistema operativo troviamo a bordo del n9 sistema operativo migo in versione 1.2 sistema operativo nato dalla collaborazione di nokia e intel lavorando su un kernel linux quindi una piattaforma una piattaforma aperta un sistema operativo il cui futuro non è ancora perfettamente perfettamente chiaro che comunque secondo me ha delle buone basi di partenza vediamo la cosiddetta home page è piena di queste di queste icone che tali sono non possono essere modificate con widget o altri collegamenti queste abbiamo a disposizione possiamo eventualmente variare l'ordine della disposizione dell'icone ma l'icone che troveremo sono queste questa è la disposizione di default quando accenderemo per la prima volta il telefono vediamo brevemente qualche qualche caratteristica anzi prima facciamo un breve riassunto come dice come dicevo il telefono monta il sistema operativo migo in versione 1.2 hardware ad appannaggio di un processore da un gigahertz un giga di memoria ram 16 giga di memoria integrati non espandibili le dimensioni del telefono sono di circa 116 mm 61 abbondanti di larghezza poco più di 12 di spessore peso 135 grammi la parte frontale display da 3,9 pollici con risoluzione 854 per 480 punti un display super amoled bellissimo da vedere bei colori molto contrastato veramente veramente bello la parte del vetro è un vetro gorilla glass leggermente stondato sui bordi anche qui da una sensazione molto piacevole al tatto parte superiore con questa piccola capsula auricolare parte inferiore con la videocamera per le videochiamate qui abbiamo anche i sensori di luminosità e di prossimità nella parte destra del telefono troviamo il tasto di accensione bilanciere per il controllo del volume nella parte bassa questo questa griglia che nasconde l'alto parlante di sistema nulla sulla parte sinistra parte superiore con jack da tre e mezzo per le cuffie sotto a questo a questo tappino troveremo la presa micro micro usb e qui sotto lo spazio per la nostra micro sim quindi dovrebbe dotarci di una micro sim parte posteriore il telefono è in un blocco unico quindi non si può rimuovere il cover posteriore della batteria è integrata troviamo fotocamera con lenti car zeiss fotocamera da 8 megapixel che permette anche di girare video in qualità hd a 720 punti e un doppio flash led dico subito che la fotocamera che porta anche il nome impegnativo car zeiss offre veramente dei buoni dei buoni risultati e oltretutto permette veramente una una gamma importante di personalizzazione durante lo scatto possiamo addirittura agire sui valori iso naturalmente sulla esposizione è una c'è una particolare attenzione sulla fotocamera di di questo telefono dicevo prima il layout della nostra home page sarà sempre questo vediamo un attimo quando lo accenderemo basterà scorrere verso l'altro la nostra tendina preso o verso il lato della nostra tendina verso l'alto verso i lati la nostra tendina per sbloccarlo una cosa interessante basterà spostare verso sinistra la nostra pagina iniziale per accedere al al task manager quindi vedremo le ultime applicazioni aperte ne vedremo l'anteprima potremmo decidere o di rilanciarla oppure tenendo premuto si evidenzieranno le queste crocettine rosse potremmo decidere di chiudere in sequenza ciò che non vogliamo più più vedere basterà eseguire un altro slide quindi apriremo una terza pagina e avremo a disposizione questa piccola paginetta con una sorta di aggregatore di informazioni avremo le notifiche se abbiamo nuovi messaggi nuovi mail chiamate perse qualora sia stato si è stato attivato il nostro profilo sui social network troveremo gli aggiornamenti quindi una veramente un aggregatore di notizie trovo che sia molto comodo e anche abbastanza innovativo questo sistema di apertura del task manager è una delle cose che mi è piaciuto di più di questo sistema operativo di altro troviamo il classico mappe di nokia possiamo accedere allo store di nokia per scaricare anche qui i nostri programmi anche se sono già precaricati e quelli più importanti troviamo la possibilità di gestire i nostri account facebook twitter abbiamo un gestore di file di file office il telefono possa può essere anche utilizzato come hotspot wifi per collegare altre periferiche ad ad internet andiamo a vedere anche brevemente il il web vediamo se riusciamo a aprire il volo il nostro sito eccolo qui piuttosto valida anche la tastiera c'è anche il la vibrazione per aumentare il feed durante la digitazione dei tasti ecco qui il browser il browser trovo che sia un browser piuttosto piuttosto efficiente è privo del supporto flash come ho detto in altre situazioni mi spiace che alcuni browser non riescono a far girare il flash player non è eccezionale ogni tanto si vede qualche piccolo rallentamento nel caricare la la nostra pagina forse io preferisco un po il browser di android mi sembra un po più efficiente come dicevo questo sistema operativo in questo momento è un po in balia dei degli eventi dopo la scelta netta di nokia di schierarsi con con microsoft per l'utilizzo del sistema operativo windows phone 7 non mi è ancora chiaro se questo sistema continuerà se per quanto tempo ad essere ad essere sviluppato comunque sia la navigazione internet è assolutamente gradevole non c'è nessun tipo di impuntamento funziona bene il pinch to zoom il browser secondo me è ampiamente soddisfacente usciamo come dicevo prima andiamo a vedere un attimo la nostra parte la nostra parte telefonica classico tastierino a nove tasti che purtroppo non incorpora la ricerca intelligente quindi dovremmo andare nella nostra cartella di contatti per cercare poi singolarmente il il singolo contatto per quanto riguarda la parte telefonica devo dire che è valida la la zona delle antenne quindi il telefono ha una buona capacità di ricevere segnale e di trasmetterlo non mi ha per niente soddisfatto la qualità della capsula auricolare tanto che al primo utilizzo pensavo quasi che fosse guasto la capsula mi è sempre risultato un pochino gracchiante veramente troppo metallica non so se colpa di questo esemplare ho avuto modo di di maneggiare soltanto questo o se siano caratteristiche di questo telefono ma devo dire con molta franchezza che non mi è molto piaciuta la qualità della della capsula auricolare che altro dire guardando queste icone abbiamo la possibilità di gestire i nostri account di post elettronica qualsiasi siano possiamo fare le tutte le sincronizzazioni del caso quindi della nostra agenda dei nostri contatti tutto in maniera completa troveremo il programma per visualizzare i video su youtube skype un telefono un telefono molto completo bene mi devo per ragioni di tempo fermare qui non non ho potuto approfondire oltre la conoscenza con questo telefono quindi è stata giusto come dicevo una 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 breve conoscenza con il nokia n9 vi ringrazio per l'attenzione e un saluto alla prossima da ivan